Dove siamo Stefano? Salve ragazzi 6 febbraio Oggi è 6 6 febbraio Madrid Parco del riposo Parco del riposo Cerco un cam Vito saluto Vito Saluta la camera Vito Vito Dice che Vito vuole un arachide Se vuoi Vito vuole un arachide La macchia Vuole una macchia Bello Vito che non è peggio E' bello E' bello Scusa 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 Scusa